Va troppo veloce, ma cos'è una Ferrari? Però ci provo! Non ce la farò mai Impazzirò prima di finire questa mappa Siete pronti ragazzi? Billy, credi in me, ora ti dimostro Che io sono l'unico vero grande imperatore Oh, ok, no, 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 scherzavo Ok, ora sono veramente troppi No, 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 ce l'ho fatto Non ci posso credere, chiamatemi la mamma E non voglio fare più questa mappa Uffa Ciao a tutti ragazzi, io sono Ken dall'Astronauta E benvenuti in questa nuovissima custom map Oggi ci troviamo in una delle mappe Dove abbiamo soltanto Mezzo cuore per finirla E sarà sicuramente difficilissima Proprio come potete vedere da questi livelli Pazzeschi, quindi Perché non iniziamo immediatamente a giocare E voi, perché non iniziate immediatamente A lasciare un bel mi piace Primo livello, la foresta Allora, che cosa dobbiamo fare? Presumo che Come in tutte le altre mappe, in tutti gli altri livelli Devo scendere piano piano senza farmi del male E' vero dell'acqua qua Quindi mi posso buttare nell'acqua Forse devo anche trovare un pulsante Sì, sono abbastanza sicuro che per superare i livelli Devo trovare anche i pulsanti Che sicuramente si troverà qua dietro Perché è scontato Ok, come scendo senza farmi del male? Muoio? Sì, muoio Allora, non dovevo assolutamente scendere là Quindi abbiamo capito che questo livello Non è semplice come sembra Perché effettivamente sembra semplicissimo Quello cos'è? Una nuvola? Ok, non c'è niente là dietro se non altro Mi raccomando ragazzi lasciate un mi piace perché questi video vi piacciono veramente tantissimo Infatti io ne ho portati già tre o quattro se non sbaglio E tutti vi sono piaciuti veramente fin troppo E avete lasciato sempre più di diecimila mi piace Quindi anche per questo video ne dovete lasciare altre tanti E come faccio io a superare questo livello? Allora, qua abbiamo una ragnatela Ma io non mi ci posso incastrare nella ragnatela No, non può, è impossibile Come faccio a incastrarmi in quella ragnatela? Non si può A meno che mi devo buttare forse da qui Immaginate Non ci posso credere! Oh mio Dio Quindi il livello lo stavo facendo io completamente sbagliato E dovevo fare un'azione troppo epica di parkour Oh, ti prendo! Però l'ho preso, dai, non è giusto Sono morto ma mentre l'avevo preso Ma non è giusto! Ma ce l'avevo fatta! Ma che è successo? Si è buggato e là ci abbiamo dell'acqua Quindi presumo che io mi debba tuffare dal minecart Dicevo, presumo che io mi debba tuffare dal minecart sopra l'acqua? Anche se non credo sia possibile O forse posso semplicemente uscire E va troppo veloce Ma cos'è? Una Ferrari! Ma lo vedete a che velocità sta andando? Minecraft, fermati! Troppo lento questa volta invece Questa volta troppo lento Questo livello ragazzi lo so già Mi farà impazzire E ora sta andando al contrario il minecart Perché il minecart va al contrario? Che è successo? Gli ho invertito le marce per caso Ok, ok, che, 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 che Non ce la posso fare È impossibile Forse mi devo avvicinare No! Ma perché? Oh mio Dio! Ragazzi troverete il link qua sotto in descrizione Se volete provare anche voi a fare questa mappa E che succede? Ora sta volando Va talmente veloce che stava volando il minecart Non va, non segue più i binari No, no, no! Vieni qua! Ma dove vai? Vieni! Oh, l'ho preso Ok, adesso No! Ok, ce l'abbiamo fatta E ora devo semplicemente uscire? Sì! Oh mio Dio! Finalmente! Abbiamo superato il secondo livello Dopo tanti, tanti tentativi Questa mappa è veramente molto più difficile Rispetto a tutte le altre che ho giocato E che ho già registrato E dove diavolo devo andare? Devo saltare Sull'acqua forse? Non credo sia questo quello che devo fare Però ci provo! Oh, forse si può fare invece Forse si può fare Perché come vedete Ci stavo quasi arrivando Ma proviamoci YOLO! Ok, ce l'abbiamo fatta Molto bene Ora presumo che ci sia il pulsante Qua da qualche parte Non lì Perché là è un pozzo senza fondo Dobbiamo trovare Forse un pulsante che mi apra la porta Prima E dopo anche un pulsante Per entrare Giusto? Non lo so ragazzi Sono perso C'è qualcosa qui Qui non c'è niente Allora sicuramente Devo per forza buttarmi qui Ma che cosa c'è qui? Non lo so C'è la morte? Sicuramente No! 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 Dovevo andare là! Quindi ora quello che devo fare io È stare qui in acqua E mantenere un certo livello Perché devo arrivare Dall'altra parte Dall'altra parte che cosa ci sarà? Presumo ci sia La casa No! 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 Ok c'è l'altra farm C'è l'altra farm E nell'altra farm sicuramente Ci sarà il pulsantino Vero? Dove sei il pulsantino? Fatti vedere Non c'è il pulsantino Ah però ci abbiamo Uuuuh Ho capito E allora ci sarà qua da qualche parte Una finestra rotta No 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 Dobbiamo entrare qua dentro? Dobbiamo per caso Ma è difficilissimo Cioè non solo Ok ce l'abbiamo fatta Dicevo non solo Devo fare tutte queste peripezie In più Devo anche cadere sopra Eh vabbè Ma no Ma non è giusto questo livello Ma che cos'è? Ma dai Ma scherzi Ok ce la faccio Ce la faccio Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Continuiamo così Perfetto Ah che cosa sono? Pozioni Pozioni Tirando pure le pozioni Perché? Scappa Kedal Devi essere più Veloce Dai corri 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 Ce la posso fare Non ce la posso fare mai Mai nella vita Forse l'ho capito Devo arrivare là Sì 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 Allora ora così Mi fermo qui Perfetto Oh mio dio Oh mio dio Mi stanno trapassando le braccia Adesso Vai Kedal Corri 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 Non ti farebbe care dalle pozioni Non ti farebbe care dalle pozioni Kedal Non essere stupido Ma queste pozioni Come diavolo cadono? Lo voglio capire Ok questo È senza ombra di dubbio Il livello più difficile In assoluto Vai 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 Devo superare tutte le pozioni No Ma sono infinite Ma ne cadono veramente tantissime Beh Vi ho fregati io Vi ho fregati questa volta Ok credo che io debba fare tipo Una specie di slalom Così No Non ce la farò mai Impazzirò Prima di finire questa mappa Dicevo Se io per esempio Salto qua E faccio uscire tutte le pozioni No mi prendono a distanza Queste mappe diventano Sempre più difficili Ogni volta che ne cerco di registrare una Sempre Più Difficili Ok sono salvo Sono salvo Sono salvo Sì sono salvo Perfetto Ora che cosa devo fare? Devo arrivare dall'altro lato Senza farmi ammazzare dalle pozioni Allora Questo livello è semplice Quindi basta fare così 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 E l'abbiamo superato Perfetto Dopo di che Dobbiamo arrivare in qualche modo Dall'altro lato Se faccio così? No Niente Ce la fanno lo stesso a prendermi a distanza Queste pozioni maledette Ce la fanno Uno Due E tre Quattro Cinque Sei Sei Sette No Ce l'avevo quasi fatta Allora devo fare così Devo andare dritto E poi saltare No Non è possibile Ragazzi Quel livello Ve lo dico io Ve lo sto giurando Adesso quel livello Non è possibile No Credetemi ragazzi Credetemi Non è possibile Fare quella parte di livello Ma Non mi dire Secondo voi Posso fare Ma scherzi Ma mi prendi in giro Adesso Cioè io potevo Tranquillamente fare quello Ok Ce l'abbiamo fatta Oh mio dio Per fortuna Ho usato l'ingegno Ragazzi Ok Ci abbiamo un errore Dei chunk Ok Bene Quindi che cosa devo fare Mi devo buttare Per sumo qua C'è dell'acqua Quindi andiamo Nell'acqua Bene Dopodiché Dove dobbiamo andare Sento ancora le frecce Ragazzi Le sento Sono diventato Un tormento Sono diventate Poi entriamo qui dentro Perfetto E poi No Non posso far Non mi dire Che devo fare quel salto Non me lo puoi dire Devo fare quel salto Vai così Ok Ce l'ho fatta invece Impossibile Sto cavolo Impossibile Io ce l'ho fatta Sono arrivato A livello Numero 6 La fortezza Ok No Bene Li moriamo Li moriamo Quindi presumo Che non debba andare là Però qua Probabilmente Sì Perfetto E poi Non devo andare Assolutamente lì Perché lì muoio Quindi il primo step L'abbiamo fatto Devo fare qua Perfetto Poi credo che devo continuare così Sì 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 E poi Quale dei due Questo Ok Quello evidentemente Poi Qui Perfetto Quindi questa mappa è tutta parkour Questo livello Mi piace Mi piace quando è tutto parkour Perché è tutto un pochettino più semplice Quando non ci sono quelle cose Super difficili da dover fare E poi così E poi Dove diavolo vado Credo di avere sbagliato Sì Sono abbastanza sicuro Che da là dovevo andare qua E ora Mi devo suicidare Bene Continuiamo con il 7 Mancava tanto così ragazzi Mancava tanto così Qualcuno chiami mia mamma Vi prego Chiamatemi la mamma Io non voglio fare più questa mappa Uffa Due Ah sì Billy Va bene Ora ti dimostro io Chi è che non riesce a finire I livelli facilissimi Eh Alla faccia tua Billy Alla faccia tua Hai capito E ora devo andare Quassù Perfetto Poi Vediamo Diamo un'occhiata per bene Credo devo andare quasi Devo andare proprio qui E poi devo scendere qua Ok Ok Semplicissimo E mi manca l'ultimo livello Il livello Della piscina No La cesta è chiusa Quindi io devo trovare Probabilmente qualcosa Per aprire quella cesta Devo trovare una specie di chiave Tuffiamoci Vediamo che cosa c'è Oh ma scherzi Ci sono quattro casse Qua dentro Questa quale Non mi dire che ho già trovato la chiave Non è possibile Non mi dire che alla prima cesta Sono riuscito a trovare la chiave Dai no Sarei troppo fortunato E sapete cosa Adesso scendiamo di nuovo E vediamo le altre cesse Se le altre sono vuote Vuol dire che ho trovato Veramente la chiave Vediamo questa qua Che cosa contiene Dai 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 Vediamo Se anche questa è una chiave Non va bene Ok questa non ce l'ha Ok ragazzi Non ci posso credere Sono riuscito a trovare La chiave nella cesta Al primo tentativo E ora speriamo soltanto Che sblocchi veramente Sì Abbiamo trovato un pulsante E dove lo devo mettere Lo devo mettere qua Sul loro Ok Sì Ce n'è un altro Livello 8 Ma io ero convinto Fossero soltanto 6 Ok Devo cadere da un aereo E là c'è dell'acqua Molto semplice Non ci vuole proprio Siete pronti ragazzi Billy credi in me Ora ti dimostro Che io sono l'unico Vero grande imperatore Hai capito Billy Hai capito E dove è il pulsante ora Dobbiamo No No Intanto sta iniziando a piovere E la cosa non mi piace Facciamo weather clear Immediatamente Ehm Tutto qui E ci sono ancora altri livelli Livello numero 9 Ci abbiamo una mazza da baseball Con knockback 2 Devo uccidere 50 zombie Scherzi Cioè io devo uccidere 50 zombie Con mezzo cuore Chi credi che sia Rambo Come faccio a uccidere 50 zombie Con mezzo cuore E soprattutto gli zombie non escono Ma non mi dire che sono in peaceful No sono in normal Perché non escono gli zombie Zombie Ehm Forse Perché sono Game mod 3 Vediamo No non c'entra niente game mod 3 Game mod 2 No 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 E dai Vediamo Forse ero Perché ero in game mod 0 E dovevo essere in game mod 2 Forse Non lo so ragazzi Sinceramente Ehm Zombie Perché non escono Mettiamo hard Magari in hard escono O forse perché è giorno Time set Oh Ok No 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 Scherzavo Ok ora sono veramente troppi Ora sono veramente troppi Zomba vattene via Hai capito Oh mio dio No 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 Che schifo ragazzi Tutti questi zombie Devo combattere con mezzo cuore Ma come Non ce la potrò fare mai Non ce la potrò fare mai Vi assicuro che non ce la farò mai Oh mio dio Sono caduti altri zombie Ma non è No ma non è semplice Questo livello Ragazzi Ma poi mi cadono addosso Gli zombie Ma vi sembra giusto Ah Oh oh No 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 Non così vicini eh Non spawnate così vicini Mai più Mai più Avete capito No 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 Oh se spawnano di nuovo Adesso sono fritto eh Se ora spawnano sono frittissimo Vai giù Vai giù pure tu Non mi toccare Non mi toccare Con quelle mani schifose da zombo Da non morto Ok ne abbiamo uccisi 17 ragazzi Ce la possiamo fare Queste frecce mi stanno iniziando a dare un fastidio Incredibile Quindi ora togliamo un pochettino il volume Ok almeno non le sentiamo in continuazione Continuano a spararle Oh mio dio No 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 Sono Comunque io sono dell'idea che quelli piccoli dovrebbero valere almeno tre punti in più Dai ce la stiamo facendo Manca veramente No 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 Cadi 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 Non avete idea di quanto io stia sudando Per finire questo livello Manca l'ultimo zombo L'ultimo L'ultimo e ho vinto Sì Ne ho uccisi due Ne ho uccisi due Ok che è successo Che è successo però No 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 Ehi le ho uccisi Le ho uccisi Ok mi ha dato un pulsante Perfetto L'abbiamo completato Oh mio dio Livello numero 10 Le dimensioni Cosa No 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 Non un altro Non un altro Che devo fare Devo buttare Veramente mi devo buttare in mezzo alle fiamme Ma stai scherzando adesso Questo livello non è per niente facile Però siamo riusciti a fare il primo Molto bene Ora continuiamo così No 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 dai Però no No ragazzi questo livello non lo finirò mai Vi assicuro che questo livello non lo finirò mai Ok uno Poi Due Bene E ora Cosa Dove devo andare Aspettate Non voglio bruciare assolutamente Però se salto da qua brucio Credo che io debba andare Su quel blocco là sopra Forza Kendall Senza sclerare Si 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 può fare Si Ok Ce l'abbiamo fatta Bene 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 E adesso dove devo andare Credo che devo saltare qui Perfetto Dopodiché Scendiamo qui E ora devo in qualche modo Ok questo devo fare No 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 Ce l'ho fatta Non ci posso credere No come faccio Spegnetevi fiamme schifose No non ce la farò mai ad entrare là dentro Non ce la farò ma Ce la posso fare Ce la posso fare Sì Oh mio dio Ci sono riuscito Ma ora questo non sarà altrettanto facile Oh mio dio Sono già abbastanza sicuro che Morirò No Vai piano 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 Continua a saltellare Continua a saltellare Continua a saltellare Bene non siamo morti Questo è già qualcosa di veramente Troppo fantastico E non vedo assolutamente niente Devo buttarmi Non mi dire eh Cioè io dopo tutto quello che ho fatto Mi devo buttare adesso Non c'è un pulsante qui No 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 Aspettate Mi sono appena accorto Che io in testa Ho il coso degli astronauti E qua Siamo nello spazio Quindi forse mi devo veramente buttare Che succede ora che mi butto Beh prima di tutto muoio E Cosa Ma Ma tutto ciò non ha senso Ma tutto ciò non ha senso Ragazzi Non ho la più pallida idea Di cosa io debba fare Mi sono dovuto andare a vedere un video su youtube Per capire come finire questo livello Perché non lo stavo proprio capendo Devo semplicemente saltare qua E poi ci sono i pulsanti Ora però non so qual è il pulsante Perché non ho continuato con il video Quindi andremo Anzi facciamo Ambarapacicicocco Tre civette sul como Il dottore si ammalò Ambarapacicicocco Questo L'ho finito L'ho finito L'ho finito Oh mio dio Era quello giusto Vi giuro ragazzi Che non lo sapevo Perché il video L'avevo interrotto Non appena mi aveva fatto vedere Cosa dovevo fare Ce l'ho fatta Non ci posso credere ragazzi Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Perché ho sclerato Veramente tantissimo Sono morto La bellezza di 99 volte 99 volte Vi rendete conto Di cosa significa questo Lasciate un bel mi piace